Due documenti differenti in merito alla commissione CHEU. Si è concluso il lavoro dell'organismo preseduto da Elena Meini che si è occupato anche delle infiltrazioni mafiose in Toscana. Approvata risoluzione della maggioranza. Presentata un'interrogazione al presidente Gianni sul rigassificatore nel porto di Piombino. Landi chiede di preservare l'area. Dà il governatore la rassicurazione definitiva. L'accordo è di tre anni, non uno di più. Due relazioni distinte, espressione di maggioranza opposizione. Dopo mesi di lavoro si è concluso l'operato della commissione CHEU che si è occupata anche delle infiltrazioni mafiose in Toscana. Se su quest'ultimo punto la posizione è stata condivisa, sull'altro c'è stata divergenza. La commissione era nata in seguito all'inchiesta della procura di Firenze sullo sversamento dei rifiuti tossici nel terreno dell'area attraversata dalla 429. A ripercorrere quanto fatto è stata la presidente Elena Meini che ha evidenziato come si tratti di un punto di partenza e non di arrivo. Più critica per quanto accaduto la vicepresidente Lucia De Robertis che ha accusato la minoranza di essersi sfilata con un preciso disegno politico. La nostra relazione è similare a quella di maggioranza per quanto riguarda la criminalità organizzata e le infiltrazioni mafiose in Toscana mentre si contraddistingue per quanto riguarda l'inchiesta CHEU che è la motivazione principale che poi ci ha portato a richiedere questa commissione. Ancora diverse domande senza risposta però ho voluto guardare avanti e quindi ho voluto proporre una serie di attività, una serie di interventi dal punto di vista amministrativo per cercare di evitare che tutto ciò si possa ripetere. All'interno dei nostri ordini del giorno chiediamo il potenziamento di ARPAT, chiediamo una commissione che è già la commissione esistente di garanzia e controllo che possa occuparsi anche del tema della legalità, chiediamo il potenziamento del fondo anti-usura, chiediamo poi che quando si presentano emendamenti in consiglio regionale soprattutto su tematiche delicate come quella dei rifiuti ci siano i tecnici della regione a garantire la procedura della presentazione dell'emendamento e ciò che sta scritto al suo interno. Non c'è nessun riscontro che quell'emendamento abbia avuto una conseguenza rispetto all'indagine del CHEU, questo credo che era l'intento che voleva dimostrare la minoranza, che c'era una correlazione tra l'emendamento presentato e l'indagine del CHEU. Io ricordo solamente due date, l'indagine è partita da ARPAT nel 2017, l'emendamento è stato approvato nel 2020, mai applicato perché non è stato necessario applicarlo. In quel momento non c'erano i tempi tecnici per tornare in aula per modificare la legge perché eravamo a fine legislatura e questo è il motivo per cui la giunta si è opposta rispetto a quel ricorso che veniva fatto. Perché abbiamo rimosso l'emendamento? Abbiamo rimosso l'emendamento perché comunque su questa legge che è davvero innovativa, unica in Italia, che gestisce il quadro normativo che consente la gestione mista degli impianti, pendeva un potenziale ricorso da parte del Consiglio di Stato. Quindi abbiamo detto siccome non è stato applicato, siccome non serve, siccome comunque non serve lì dentro, lo togliamo così evitiamo che ci venga discusso tutto l'impianto normativo. Considerazioni che hanno trovato eco nel dibattito che si è sviluppato in aula. Alessandro Capecchi di Fratelli d'Italia ha sottolineato il potere limitato della Commissione, mentre Irene Galletti del Movimento 5 Stelle ha sintetizzato la Commissione ha mancato i suoi obiettivi. Differente l'opinione di Stefano Scaramelli di Italia Viva, che ha parlato di un lavoro buono. Il primo tema è quello dello strumento. La Commissione di indagine può essere richiesta soprattutto dalle opposizioni, ma in realtà ha pochissimi poteri istruttori e coercitivi nei confronti di soggetti che possono anche rifiutarsi di venire pur invitati. Questo è successo complice anche il fatto che questa Commissione si è svolta durante le indagini che praticamente non sembrano non finire mai. Quindi siamo anche curiosi di capire se e quali sviluppi ci saranno rispetto alle posizioni soprattutto di coloro che svolgevano e svolgono ancora una funzione pubblica, sia politica che tecnica. Il secondo elemento poi sta invece nell'atteggiamento che la Giunta e una parte degli uffici hanno avuto durante lo svolgimento delle audizioni e dei lavori della Commissione. Tante volte abbiamo letto sui giornali il giorno stesso della convocazione anticipazioni o spunti che la Giunta per esempio, anziché venire a condividere con la Commissione, in realtà rendeva pubblica. Terzo, c'è stata una divaricazione pericolosissima, di cui ancora non si conoscono gli effetti, fra ARPAT e struttura tecnica della Regione. È stato impossibile arrivare alla definizione di una relazione comune perché, a quello che sembrava, la maggioranza aveva visto, aveva letto dai fatti che si sono succeduti nel corso di quest'ultimo anno, una visione tutta propria che era impossibile da condividere e soprattutto che non sarebbe stata e credo che non sia accettabile anche da parte di quei tutti i cittadini che non più tardi di pochi giorni fa si sono sentiti dire che le bonifiche alle aree inquinate dal Keu saranno difficili e in alcuni casi impossibili. La relazione che abbiamo presentato come opposizione si è tenuta il più lontano possibile nel rispetto di tutte le persone coinvolte dalla questione giudiziaria, ma non ha potuto fare a meno di un giudizio politico molto severo che è stato poi il medesimo che Rosi Bindi, certamente non una persona qualunque nel panorama politico, ha espresso nei confronti della politica, che troppo spesso si autoassolve ed è velocissima nel cercare delle giustificazioni e delle coperture anche alle sue azioni che vengono pubblicamente considerate veramente nemiche di quello che è l'onore e la disciplina che ci dovrebbero caratterizzare. Una relazione che non ha trovato un consenso unanime con due punti di vista differenti, però un lavoro buono fatto dai colleghi della commissione d'inchiesta che di fatto in questo periodo hanno lavorato in maniera molto attenta. C'è un tema delicato che emerge dalla discussione, quella delle infiltrazioni mafiose che ci sono ovviamente in Toscana con il resto d'Italia e serve per contrastarle una politica che sia forte. Quindi bene che il Consiglio regionale abbia affrontato questa questione, che abbia approfondito, che abbia reso trasparente l'operato della nostra regione e nel rendere trasparente l'operato della nostra regione è ammesso nelle condizioni tutti i consiglieri di approfondire nei dettagli quello che è stata una questione molto importante, quella del Cheu e non soltanto quello che può essere in tutte le questioni che riguardano gli appalti pubblici, soprattutto se pensiamo che arriveranno tante risorse rispetto al PNRR è opportuno e doveroso dotarsi di anticorpi che consentano alle pubbliche amministrazioni di lavorare con tranquillità e alle aziende sane di poter lavorare nel massimo della trasparenza nella nostra regione. Al termine del dibattito è arrivato il voto del Consiglio sugli atti collegati alle relazioni. La maggioranza ha fatto approvare una risoluzione che recita. Il Consiglio regionale condivide integralmente la relazione di maggioranza sui lavori della commissione di inchiesta su infiltrazioni mafiose e criminalità organizzata in Toscana e impegna gli organi della regione per gli ambiti di rispettiva competenza a recepire le proposte operative offerte dalla relazione di maggioranza anche mediante iniziative condivise. Consequentemente sono stati approvati anche tre ordini del giorno, due di Meini sulle bonifiche e sul potenziamento di Arpat e uno di Galletti sul potenziamento delle strutture di supporto delle commissioni, rispinto invece quello di Capecchi sulle modifiche al ruolo della commissione di controllo. La Golar Tundra resterà nel porto di Piombino per tre anni. Snam poi dovrà trovare un altro luogo per posizionare il rigassificatore, una delle fonti di approvvigionamento energetico individuato dal governo per fare fronte alla crisi del gas. L'argomento ha toccato anche il Consiglio regionale. Il presidente regionale Eugenio Gianni, che è commissario per la gestione dell'operazione, ha risposto a un'interrogazione del portavoce dell'opposizione, Marco Landi. Il governatore ha escluso la durata dell'accordo per 25 anni. Ho detto no alla richiesta di concessione richiesta da Snam per 25 anni. È inaccettabile. L'operazione è possibile solo se sarà una cosa temporanea e se ci saranno le condizioni per usare il porto di Piombino. Gianni ha quindi ricordato che sono 29 i miliardi di metri cubi di gas da far passare nei gasdotti russi e sostituirli con i rigassificatori di Ravenna e di Piombino. Significa 5.000 ciascuno a coprire un terzo del fabbisogno. Questa vicenda di Piombino in questi aspetti sta raggiungendo il grottesco. In questo caso Landi, persona che assolutamente io stimo, ma che è il portavoce dell'opposizione, esponente della Lega, chiede a me qual è il pronoprogramma. In questi giorni su più giornali è apparso che la sottosegretaria della Lega, Gava, ha pubblicato quello che è il suo cronoprogramma che prevede che a marzo la nave di rigassificazione sarà già nel porto di Piombino. Delle due ed una o si separino perché nello stesso partito dicono due cose totalmente diverse o altrimenti si incontrino così che Landi può avere risposta dalla sottosegretaria sul cronoprogramma. Io su Piombino l'ho detto in questi giorni e lo ripeto fino a che SNAM non modifica quello che è la proposta di istanza per il posizionamento del gasificatore che finora in data 29 giugno ha formulato dicendo di chiedere l'autorizzazione per 25 anni. Formulazione per me inaccettabile che ho rimandato al mittente perché ho detto che 25 anni nella banchina più importante della Darsena Nord e del porto di Piombino quella nave 25 anni non ci può stare, ci può stare al massimo due o tre anni per poter sopperire a questo periodo. Landi nel presentare il quesito al Presidente regionale aveva illustrato il possibile impatto su Piombino evidenziando che più che guardare in alto occorre guardare al territorio, alle sue problematiche e ai cittadini. Piombino non è taranto, ha già dato in questi ultimi 150 anni alla causa dello Stato in termini di lavoro, di morti sul lavoro, di territorio e della natura di quella zona che è stata offerta per esigenze nazionali ad ospitare una centrale Enel, una discarica, l'industria. Affermazioni sottoscritte anche dal capogruppo di Fratelli d'Italia, Francesco Torzelli. Il Presidente Gianni nella sua veste di commissario per l'opera del rigassificatore nel porto di Piombino continua a nostro avviso a sbagliare, lo fa perché adesso sta facendo il gioco delle tre carte con la durata del tempo di questa concessione che Snam dovrebbe avere per posizionare il rigassificatore ed avere la concessione sia sul porto che come offshore fuori dal porto di Piombino. Si è sempre parlato di 2-3 anni nel porto e il resto fuori come offshore. Sicuramente non è accettabile che questa soluzione avvenga né nel porto di Piombino né nel golfo di Follonica come offshore e quindi parlare di questi anni 2-3, la concessione a 25 è qualcosa che noi sappiamo già da diversi mesi. Dobbiamo affrontare la questione in maniera diversa. Gianni, ascolti il territorio di Piombino, ascolti il suo partito a Piombino, ascolti il suo partito rispetto a quello che gli viene detto dal consigliere regionale del suo partito di quel territorio. Noi continuiamo a pensare a quello che pensiamo dal primo giorno, cioè che una città come Piombino che già tanto ha dato e ha pagato alla crisi industriale, alla crisi economica, alla crisi pandemica e che oggi cerca di ripartire con quella risorsa che ha a disposizione, la prima delle risorse che ha a disposizione, cioè mare e turismo, non possa subire l'onta di una nave petroliera metaniera di 300 metri di lunghezza, ormeggiata per tre anni nel porto di Piombino. Noi siamo assolutamente in linea con la battaglia che il sindaco di Piombino, Ferrari, sta facendo per evitare questo scempio. Ci fa piacere, questo sì, che il governatore Gianni, da essere un ultra del progetto rigassificatore a Piombino, stia ponendo delle criticità. Ho paura, spero per una volta confido nel governatore Gianni, ma ho paura che l'avere accettato il ruolo di commissario lo abbia messo in qualche maniera con le mani legate di fronte a una decisione già presa.